Lo schieramento che vede al numero 1 First Deskall con Antonio Simioli, 2 Felicia Dorial, Luigi Cuozzo, 3 Fani Ardantreb, Davide Angeletti, 4 Fabiola Love, Dario Battistini, 5 Faraway AM, Vincenzo Castiglia, 6 Flash Gara, Antonio Di Nardo, 7 Futurovis, Giuseppe Lombardo Jr. La seconda fila per il 9 Forever Mail, Gabriele Quarnetti, il 10 Fenomenal Sergio e Lucio Becchetti, 11 Frenzy Griff e Gaetano Di Nardo, 12 Freedom Lux, Luigi Cimmino. 200 al lancio Si ritraggono Forever Mail e Freedom Lux in seconda fila Allo stacco si ritrova davanti il numero 4 Fabiola Love con all'esterno Flash Gara Poi alla corda First Deskall che ha al fianco Fani Ardantreb Prova a sopravanzare l'avversario Flash Gara Quest'ultimo che rimane lì in posizione ma si è attenzionato a voler concedere la strada Vediamo quello che succede all'uscita dalla piegata con i primi 400 metri che vanno via in 29,9 E così Flash Gara è leader davanti alle tribune nei confronti di Fabiola Love Poi First Deskall I 600 se ne vanno nell'ordine del 45 per Flash Gara che sullo slancio ha preso un paio di lunghezze di margine all'avversario Poi First Deskall che precede Felicia Dorial E così i cavalli arrivano al paletto di metà gara in 1,1 e 3 Con una frazione tutto sommato abbastanza lenta tant'è che il gruppo si è ricompattato Per linee esterne c'è Futuro Vis che ora subisce l'anticipo di First Deskall E intanto il chilometro va via in 1,16 e mezzo Con sempre al comando Flash Gara nei confronti di Fabiola Love First Deskall all'esterno in corda Felicia Dorial Poi ancora Futuro Vis quindi a mezza via Fenomenal Sergio Che ha largo Freedom Luxe completamento della piegata Con Flash Gara ancora leader all'imbocco della addirittura d'arrivo Nei confronti di First Deskall che ora sul dritto prova ad avvicinarsi Ma Flash Gara sembra ancora avere la possibilità di controllare Così agli ultimi 100 metri Flash Gara che nel finale si mantiene in larga evidenza Flash Gara che viene a concludere nei confronti di First Deskall Mentre per il terzo dovrebbe essere rimasta ancora in quota Fabiola Love per linee interne ma andremo a rivedere tra poco 2,1 e mezzo sul cronometro 1,15 e mezzo la media per Flash Gara Il lavoro di Afrin Schmid prima della falsa partenza Aggiungendo un po' di peso agli anteriori Ha prodotto gli esiti sperati E così la figlia di Varenne Mindwise È riuscita a portare a casa il successo da favorita Buon secondo posto per First Deskall Mentre per il terzo vedete che sono molto vicini Dall'interno Fabiola Love all'esterno Futuro Vis Da questa immagine sembrerebbe Futuro Vis Essere riuscito a passare Ma ci rimettiamo al risponso del giudice di arrivo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti